ecco qua mute all poi condivisione dello schermo ecco qua dovreste vedere lo schermo giusto siamo in elicona allora avete visto che l'ambiente è un po cambiato per rendere più facile poi questo finale di corso questa è l'area del project work qui saranno riportate delle informazioni ovviamente man mano che andremo avanti comunque tutto suddiviso per aree precise questo riguarda invece insegnare con bellezza quello che faremo lunedì prossimo che sarà l'ultimo webinar istituzionale cioè quelli della serie che portano avanti i capitoli del manuale scusate diamo un'occhiata invece qui qui sono stati raccolti fondamentali cioè tutti i documenti che servono per sia per finire il corso che per coloro anche che arrivano magari in ritardo e giustamente hanno la possibilità di vedere quello che abbiamo fatto e quello che faremo a questo proposito quelli in ritardo diciamo così hanno dove l'ho messo eccolo qua sportello per tutti gli ultimi arrivati che avete letto dalla mail il venerdì dopo domani teremo uno sportello specifico per chi magari in ritardo oppure ha dovuto abbandonare il corso e quindi lo rimettiamo in pista allora partiamo dal project work eccolo qua il project work è spiegato in questo documentino è molto importante che voi sappiate questo il project work serve per due cose uno perché conclude il corso e quindi il fatto che vi venga chiesto di creare un ebook che rappresenti il vostro portofoglio però dal punto di vista delle vostre riflessioni e quindi non solo quello che avete fatto ma proprio il modo con cui l'avete fatto quello che vi ha dato come pensate di poterlo trasferire questo è molto importante perché perché è il modo attraverso il quale noi aiutiamo gli studenti a riflettere su quello che hanno fatto sapete che raramente a scuola questo avviene se non mai cioè si studia si fanno le verifiche e poi non si fa mai un bilancio di quello che si è fatto e non invitiamo mai gli studenti a fare un bilancio di quello che è stato fatto anche gli studenti piccoli parlo anche con gli insegnanti di scuola dell'infanzia allora bambini in queste ultime due settimane abbiamo fatto questo abbiamo fatto quest'altro abbiamo ottenuto questi risultati che cosa ne pensate siete contenti cioè da un livello così fino ad arrivare a un corso per adulti il momento della riflessione è di straordinaria importanza e quindi il secondo motivo è che dal momento in cui voi realizzate questo project work lo potete anche utilizzare l'anno prossimo con i vostri studenti cioè potete proporre una conclusione dell'anno scolastico esattamente in questi termini e vedrete che vi darà dei risultati straordinariamente interessanti allora le indicazioni sono qui e quindi realizzate un portfoglio che non è una raccolta di lavori ma una sorta di diario di viaggio il vostro diario di viaggio presentazione e riflessione su questa esperienza e la struttura è molto importante perché è un libro quindi adesso lo vedremo ci va una copertina naturalmente qualche spiegazione delle immagini potete inserire direttamente dei documenti dentro questo libro quindi anche per esempio delle slide di powerpoint anche dei filmati anche dei pdf quindi diventa veramente uno strumento eccezionale il risultato deve essere agile cioè non fate delle cose non mettetevi a fare delle cioè non è un'impresa da realizzare una cosa semplice che si capisca con qualche riflessione così soprattutto diciamo che sia fatto con una certa cura ecco più che molto voluminoso non deve essere un libro bastano anche poche pagine con delle indicazioni immagini e testi meglio una cosa semplice ma pulita e precisa la consegna la consegna questa volta è tassativa è tassativa perché abbiamo dei tempi da rispettare per la chiusura del corso e quindi la consegna entro la mezzanotte del 5 luglio come vedrete fra due secondi questo lavoro viene pubblicato automaticamente voi riceverete un link e questo link lo inserirete all'interno di questa forma la forma è questa deposito project work occhio che alla consegna del project work vi segnerete 90 punti sul tabellone e poi beh indirizzo gruppo eccetera e qui ci sarà il link proprio il link http eccetera eccetera lo copiate lo incollate qua e basta è tutto quello che dovete fare quindi di questo project work se ci sono poi domande ne parliamo poi alla fine di questo webinar adesso vediamo l'applicazione con la quale create questo project work abbiamo scelto un'applicazione per creare ebook per una serie di motivi il primo è che è una splendida applicazione che consente veramente di realizzare un portfoglio la seconda è che entriamo nel mondo degli ebook sul quale farò un mini webinar aggiuntivo magari settimana prossima così per quelli che sono più interessati di voi e che riguarderà proprio il mondo degli ebook i vari formati, i sistemi di pubblicazione eccetera una carrellata come si creano eccetera una carrellata interessante perché l'ebook è un grandissimo strumento voi pensate che voi stessi potete creare dei libri libri di testo, dispense, manuali eccetera come quello che io vi ho messo a disposizione in un formato particolare che è il formato e-pub che è lo standard di questo sistema molto interattivo quindi lo vedremo però adesso dunque passiamo a vedere questa applicazione dunque che è Book Creator allora voi vi iscrivete a Book Creator è un'applicazione che fornisce gratuitamente per un certo periodo di tempo no, per sempre vi fornisce un id attraverso il quale potete creare fino a tre libri quindi il primo vostro per chi non conosce l'applicazione sarà il Project Work per chi la conosce magari è già abbonato naturalmente sa già come fare quindi voi create un nuovo libro con questo pulsantino una volta che siete entrati e il libro si presenta così bianco sceglierete il formato no, un formato diciamo verticale oppure più quadrato orizzontale e a questo punto lavorate dentro l'ebook la prima cosa che avete è la copertina allora la copertina naturalmente io vi consiglio di crearla con Adobe Spark Post o programma equivalente che utilizzate cioè una cosa grafica molto carina con il titolo io ho scritto Project Work ma voi potete chiamarlo come vi pare vedete come funziona in questo caso come si fa adesso a inserire un titolo o degli oggetti è semplice vedete che qui avete dei pulsanti il pulsante i vi consente di inserire dei sottofondi se voi valutate che valgiano la pena i sottofondi che avete scelto appaiono qua potete scegliere non so dei sottofondi ecco delle varie pagine questo non è adatto per la copertina ovviamente che può essere questo questo e così via quindi ricordate che dal menu i voi potete stabilire qual è lo sfondo del vostro libro questo vale per tutte le pagine ovviamente siccome siamo nella copertina però quello che io vi consiglio di non perdere tempo qui con titoli e sfondi ma se potete di inserire direttamente una grafica realizzata con un'applicazione che aiuta agevola la costruzione di grafiche per quale motivo beh perché è molto complicato creare una grafica partendo da zero come in questo caso poi dopo la copertina voi andate avanti con le freccette e vedete che avete le pagine qui sembra una pagina ma in realtà sono due perché il formato è quello verticale di prima quindi avete due pagine vedete che abbiamo scelto questo tipo di carta va benissimo scegliete quello che vi pare adesso dobbiamo utilizzare il pulsante più vedete la facilità incredibile con cui si può popolare il libro allora scrivete il testo chiaramente non stiamo a perdere tempo con il testo perché ci sono tutti gli strumenti classici di elaborazione eccetera vediamo invece altre cose più interessanti e cioè per esempio registra potete registrare se il vostro dispositivo ha un microfono potete registrare addirittura un audio qui dentro e quindi da qui poi comincia la registrazione 3 2 1 bene eccoci all'interno del nostro project work è stata un'esperienza molto interessante interrompi la registrazione la riascoltate usa la registrazione ed ecco che la vostra registrazione appare qua adesso vi insegno un trucco noi abbiamo scritto un testo lo vedete e magari lo colorate lo ingrandite adesso io non perdo tre secondi a fare queste operazioni che sono semplicissime ma farò così dal pulsante impostazioni e avendo selezionato il file audio dirò il file audio di spostarsi indietro in modo tale che il file di testo appaia sopra lo vedete poi torno sul file audio e gli dirò addirittura che dovrà essere invisibile sempre dal pulsante i in modo tale che poi quando farò click su una parte dell'area per esempio io potrei aver messo una cartina qui con dentro tutti i disegnini no io ho per esempio i personaggi che parlano o non lo so la città che dice qualche cosa l'elemento grafico e così via perché avendolo nascosto dietro poi facendo click si possono scoprire degli elementi e qui per esempio con questo con questo testo posso stabilire un titolo e invitare l'utente a fare click sul file audio questo è un piccolo trucchetto perché vi può rendere interattive delle immagini una grafica e così via però torniamo al pulsante più allora potete inserire ovviamente delle foto che scattate questo è evidente interessante poter scrivere con la penna la scrittura con la penna è consigliata nel caso in cui abbiate ovviamente una penna o un computer con il touch screen oppure un tablet sul quale potete poi scrivere e disegnare ma quello che a me interessa sottolineare adesso è la funzione import la funzione import è straordinariamente potente perché guardate potete importare immagini le mappe quindi nel caso in cui vi ricordate abbiate utilizzato la mappa con qualcuno di voi l'ha fatto con i vostri studenti eccetera la potete importare potete importare dei file e guardate che potete importare dei file di qualsiasi tipo per esempio questo è un file .key che sarebbe l'equivalente di powerpoint per gli ambienti apple che è un file di keynote quindi io lo posso importare poi l'utente naturalmente farà un doppio clic e arriverà poi ad aprire ad aprire questo questo file allora alcuni formati sono compatibili altri no però certamente i pdf i formati più più noti possono essere importati direttamente valutate voi potete importare dei file da drive potete anche incorporare ad esempio una pagina web molto molto importante questo per quale motivo perché alcuni dei vostri lavori sono stati realizzati proprio in questo modo e quindi avremo la possibilità all'interno del libro non solo di avere un link quindi vai alla pagina web ma proprio di vedere all'interno del libro mentre si sfoglia quello che avete fatto e quindi il mio consiglio è quello di realizzare certamente dei testi no? qui un testo dove dove scrivete no? spiegate la vostra vicenda poi delle immagini così ma di inserire molta grafica di rendolo molto carino molto molto visuale anche naturalmente sempre con le vostre riflessioni poi andate avanti inserite le pagine che sono necessarie e con alcuni accorgimenti torniamo indietro allora dopo la copertina lasciate magari qui uno spazio una dedica no? scrivete la vostra mail per esempio date quelle informazioni che ci sono anche all'interno dei libri poi quando avete finito il libro poi nell'ultima pagina magari inserite le note una vostra immagine del una una vostra breve descrizione delle informazioni che vi riguardano un po' proprio come avviene nei libri quando avete finito quando avete finito quando avete finito ecco che tornate nella biblioteca cioè nella sezione dove avete tutti i libri che vengono pubblicati con questa applicazione si trova qua in alto a sinistra i miei libri e utilizzate questo pulsantino qua sotto naturalmente gli date un nome poi gli dite anche qual è l'autore e questo è il pulsante di condivisione qui fate pure tranquillamente due operazioni lo pubblicate online come avviene per tante applicazioni che abbiamo utilizzato e poi lo scaricate anche come ebook lo scaricate come ebook per voi per voi perché lo potete quindi vedere come ebook con quale applicazione voi lo vedete come ebook voi lo vedete come ebook con un'applicazione che si chiama Adobe Digital Element che è un'applicazione che funziona su tutti i dispositivi e tutti i computer ma se avete dei dispositivi Apple usate un'applicazione che è creata da Apple e che si chiama Libri queste sono le applicazioni migliori per poter usufruire ebook come questi che sono a differenza del manuale sono degli ebook interattivi cioè contengono veramente molto molti elementi tra i quali anche dei filmati che potete tranquillamente inserire qui all'interno una volta che avete quindi concluso attraverso il sistema di condivisione la pubblicazione online vi darà un link ed è precisamente quel link che voi inserirete qua nel deposito dovete proprio inserire quel link nel deposito e quindi abbiamo concluso questa prima parte vedete siamo stati rapidi adesso vediamo le altre due applicazioni con cui potete costruire la landing page che racconta la vostra passione come ha fatto la vostra collega che però forse non ha messo il nome vediamo se c'è un nome no? quindi non si sa chi l'ha fatta cioè lo sappiamo andando a trovare questo Mimma Mimma di Vico che magari non è presente qua e ecco Mimma ha consegnato questo come? sono presente sono qui Mimma sei presente brava abbiamo un collegamento diretto con Mimma che è l'autrice di questo lavoro Mimma Mimma hai fatto un bel lavoro vero? sei soddisfatta? sì sì perché ce l'avevo in testa da qualche giorno a dire il vero volevo creare l'ambiente di apprendimento ma secondo me non si adattava bene a quel tipo di eh formato e quindi ce l'avevo in mente con questo lavoro invece è venuto fuori ecco perché mi è piaciuto perché era dentro di me l'ho un po' coltivato per qualche giorno Mimma sei una donna era dentro di te possiamo dire che hai partorito un gran bel lavoro giusto? grazie perfetto senti Mimma c'è una cosa che hai detto che è molto 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 importante e che tutti dovete imparare a memoria ve la dovete scolpire proprio Mimma che cosa ha scoperto? ha scoperto che non tutte le applicazioni eh sono eh diciamo adatte per un certo tipo di lavoro perché per esempio anche google site crea dei siti crea delle landing page ma non crea delle landing page di questo genere e infatti google site è più adatto per creare un ambiente quell'ambiente famoso che siete stati invitati a creare un po' di tempo fa questa invece applicazione è molto grafica molto orientata invece alla così proprio anche alla poesia della comunicazione e quindi non è adatta per creare un ambiente perché non puoi disporre le varie cose anche in giro così ma è molto adatta invece per raccontare una storia una foto web story adesso se mi dai l'opportunità ti spiego due cose che dovresti fare per cambiare un po' il migliorare allora qui devi scrivere il tuo nome eh dopo il titolo ci va l'autore sempre sì poi devi fare un'altra cosa non ci sono immagini di tipo window cioè a scomparsa hai inserito solo delle immagini che scorrono in questo modo ma adesso io vi insegno come si fa che è lo scopo appunto di questi 5 minuti di apprendimento su questa applicazione spiacente non ho trovato nessuna informazione per immagini che scorrono no non ho chiesto a te le informazioni dunque allora non so se ho capito bene scusate qui ho arrivato i dispositivi tra Alexa, Siri e compagnia bella dunque allora dove era dove era dove l'ho messo l'ho messo l'ho messo qua allora voi entrate in Adobe Spark e sulla sinistra se usate una pagina web ovviamente perché altrimenti se usate queste applicazioni su un dispositivo le avete già distinte sono diverse applicazioni qui invece essendo una web app generale le distinzioni le trovate all'interno di quello che del progetto crea un progetto e riguardano ciò che voi potete creare quindi creiamo creiamo adesso una pagina web allora qui inseriti inserite il titolo va bene non c'è qui il sottotitolo d'accordo poi scorrendo verso il basso ecco che è proprio la prova di 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 chiunque appare questa questa serie di indicazioni che vi dice cioè tu non puoi andare avanti vedete anche scorrendo non potete andare avanti perché vi obbliga proprio a inserire qualche cosa ma prima di inserire qualche cosa fate click su questo spazio grigio per inserire una foto di sottofondo delle due l'una o la foto l'avete voi e quindi la caricherete carica la foto oppure troverete delle fotografie tramite questo potente motore di ricerca che vi consente di creare di inserire delle immagini ecco di inserire delle immagini che voi avete il diritto di utilizzare e che lui citerà già in modo automatico alla fine citerà l'autore la provenienza e tutto il resto quindi non vi dovete occupare di nulla poi andate avanti e abbiamo detto potete inserire un testo testo però fate attenzione che avete questa opportunità titolo 1 titolo 2 citazione oppure testo normale sono dei pulsanti e quindi accendi spegni quindi se fate click di nuovo sul pulsante la formattazione ritorna quella precedente naturalmente potete anche evidenziare un testo fare click sul link e poi inserire qui l'indirizzo web del documento che volete richiamare poi andiamo sotto vedete ci sono di nuovo i pulsantini e a questo punto scegliamo la possibilità di inserire delle immagini guardate che cosa possiamo fare abbiamo 1 2 3 4 modi diversi di inserire immagini all'interno di questa landing page cominciamo da questo foto foto prendiamo una immagine qualsiasi e mi chiede ancora come la voglio mostrare questa foto la voglio mostrare a tutta larghezza occuperà tutto lo spazio la finestra quindi sarà grande senza scorrimento riempire lo schermo oppure agganciata ecco che vuol dire che l'immagine sarà esattamente apparirà in questo modo voi fate le vostre prove tutta larghezza poi provate a riempi schermo vedete come potete decidere anche il punto focale cioè dove deve puntare l'immagine attraverso questo pallino va bene in questo caso alla fine del molo dovete sempre fare click dovete sempre fare click click sull'immagine affinché si riapra diciamo la finestra delle modalità con cui inserirla e finalmente arriviamo alla modalità finestra la modalità finestra è quella famosa che vi mostra l'immagine a scomparsa quindi siamo alla parte del titolo quindi andiamo avanti andiamo avanti e compare eccolo qua alla fine compare il molo vedete che questo effetto è straordinario perché ti porta dentro l'immagine stessa in particolare poi se abbiamo una prospettiva di questo genere oppure se vi ricordate il webinar dell'altra volta se abbiamo delle immagini per esempio di persone non so anche di animali così di ambienti che vogliamo far scoprire un po' per volta ecco come avviene questa scoperta notate che qui di fianco sulla sinistra abbiamo l'opzione didascalia che possiamo spostare a sinistra al centro oppure a destra come ci pare questa opzione è importante perché possiamo per esempio inserire una citazione la citazione come vi dicevo dopo il testo le prime battute una bella citazione che rafforza il senso di quello che raccontate abbiamo detto anche una citazione totalmente inventata è qualcosa che dà valore se non scrivete niente questo spazio non verrà mostrato però adesso vediamo un altro sistema per inserire immagini quindi tasto più e vediamo il Glade Show il Glade Show funziona in questo modo io prendo due immagini così che vengono poste una sotto l'altra e saranno mostrate in successione salva ed ecco quello che succede prima immagine e seconda immagine attraverso un effetto di dissolvenza passo da una all'altra e qui ho di nuovo lo spazio per fare qualche cosa ma a differenza dell'opzione precedente io qui posso di nuovo inserire un'altra immagine per esempio posso inserire la stessa immagine perché dato che qui arriva a scomparsa sulla sinistra la posso mostrare posso raggiungere una didascalia posso inserire un testo di spiegazione e quindi pensate che cosa posso fare nel momento in cui io per esempio ho una fotografia di questo genere e poi voglio esaminare dei dettagli qui con i miei studenti fare notare delle cose dei colori degli aspetti scientifici io farò una foto dello schermo limitata per esempio a questa zona adesso questa questo screenshot verrà registrato sulla mia scrivania e quindi lo potrò tranquillamente poi inserire qui magari sostituendo questa immagine che ho appena inserito attraverso l'opzione carica foto schermata eccola qua e quindi posso parlare qui per esempio di un dettaglio di questa immagine quindi veramente ci sono delle opzioni incredibili interessantissime e che voi potete poi ulteriormente perfezionare scegliendo il tema che più si addice al vostro racconto e che ovviamente influenzerà il modo con il quale i testi e le immagini vengono presentate e poi andate avanti via via provate anche le altre opzioni mi raccomando cercate quando fate questi lavori cercate sempre di inserire movimento molto movimento niente di statico perché vi ho spiegato l'altra volta che l'immagine racconta nel momento in cui c'è un movimento perché se è statica non racconta niente ci mostra solo un ambiente diciamo che avete finito quindi condividi condividi pubblica pubblica e condividi collegamento inserite se volete la categoria se pensate di aver fatto un gran lavoro allora accettate di farvi notare perché perché può darsi che adobe vi chieda il permesso di mostrare il vostro lavoro come modello di ispirazione per altri artisti o persone che utilizzano invece se non vi va deselezionate questo questa opportunità e poi dopo di che crea il collegamento adesso lui crea veramente il collegamento e voi questo collegamento lo recuperate copia e poi potete anche metterlo su twitter eccetera ricordatevi il twitter di edicona per esempio avete copiato il collegamento potete sempre apportare delle modifiche per esempio adesso cambiamo layout e ripubblichiamo ripubblichiamo aggiorna collegamento ma lui non cambia il collegamento quindi voi avrete sempre un solo link che è quello precedente che sarà sempre valido ricordatevi però che se apportate dei cambiamenti poi dovete ripetere l'operazione di condivisione avete anche una funzione di anteprima che fa sparire tutti i pulsantini e vi mostra poi l'oggetto come viene come verrà presentato alle persone che vi accederanno bene abbiamo finito anche questo e adesso cinque minuti invece per parlare di un'altra applicazione che fa sempre parte dove l'abbiamo messa ecco qua chiudiamo lì torniamo in page che è quella invece con la quale io vi consiglio di creare i sette step i famosi sette step per raccontare anzi per spiegare in questo caso perché siamo nella parte di comunicazione per spiegare a un eventuale appassionato cosa potrebbe fare per condividere la vostra passione c'è qualcuno qua che ha fatto un disegnino sullo schermo ha scoperto che si può disegnare simpatica la cosa e che cosa utilizzeremo utilizzeremo il video che è un'applicazione a sé stante nei dispositivi mobili che si chiama Adobe Spark video lo vedete qua crea un progetto video e qui anche qui proprio è veramente molto semplice ogni storia ha un inizio descrivi qua quindi potete inserire un titolo qua potete sempre correggere quello che fate serve solo per aiutarvi a ragionare potete scegliere uno qualsiasi di questi modelli senza perdere troppo tempo perché perché lo potete sempre cambiare quindi scegliamo questo e vedrete che anche questa applicazione è di una semplicità straordinaria ah naturalmente avete un tutorial qui che vi spiega un po' che vi da dei suggerimenti guardatelo pure male non fa ed ecco che entriamo in qualche cosa che vi ricorda quello che abbiamo appena fatto qui avete una schermata potete inserire video testo foto e icone e dopo di che qui sotto c'è lo storyboard che voi a mano a mano vedete completate non sono slide non chiamatele slide perché questa non è un'applicazione come powerpoint e non c'entra niente con powerpoint questa è un'applicazione che genera filmatic le applicazioni di slide creano una slide due slide tre slide qui invece lui crea 24 30 fotogrammi per ogni clip questi questi spazi li chiamiamo clip per dare il movimento fluido corretto di un film perché quello che produrrà alla fine sarà un film e non una proiezione di slide quindi siamo all'inizio all'inizio potete scrivere tranquillamente inserire un titolo più grande più piccolo come anche in altre applicazioni Adobe avete poche opportunità di lavorare da un punto di vista grafico perché perché Adobe ha fatto in modo di creare dei modelli che producano dei buoni risultati qualsiasi cosa voi facciate al loro interno poi passiamo alla seconda inserite se volete un video un testo una foto quindi ritorniamo al caso di prima per cui vi faccio vedere invece la funzionalità delle icone che è veramente straordinaria allora io scrivo in lingua inglese perché ho più possibilità scrivo foto e quindi ecco posso scegliere un'icona diciamo che scelgo questa icona scelgo quest'icona e posso registrare in questo clip posso registrare la mia voce che spiega qualche cosa in merito a questa a questa parte guardate basta fare click consenti e poi mi dice tieni premuto il tasto per registrare quindi io tengo premuto buongiorno adesso ti spiego come diventare un grande fotografo avete visto che ho aspettato un attimino perché c'è sempre un periodo di latenza basta un secondo poi fate click su play autorizza riprodurre bene voi non lo sentite perché entra entra da un altro canale quindi ma lui ha riprodotto il mio la voce questa voce fuori campo diciamo che mi sono sbagliato non c'è nessun problema ritorno al mio clip faccio click di nuovo e la registrazione verrà sovrapposta ciao benvenuto nella mia spiegazione vedrai che in soli sette step diventerai il fotografo migliore al mondo basta lui ha registrato sopra questa la registrazione precedente questo significa una serie di cose significa che possiamo procedere a braccio tanto rifacciamo dividiamo tutto in piccole frasi non c'è nessun problema oppure scriviamo leggiamo oppure a scuola possiamo raccontare delle storie possiamo fare in modo che i nostri studenti facciano loro delle lezioni anche più di uno studente per volta ogni clip magari uno studente che spiega qualcosa gli esercitiamo a parlare gli esercitiamo a raccontare o a comunicare a secondo di quello che dobbiamo fare notate il linguaggio iconico il linguaggio iconico è importante perché mescolando in un video di questo genere delle immagini fotografiche delle immagini che noi prendiamo in varie situazioni non avremo ripeto non avremo una coerenza grafica ma se utilizziamo delle icone e poi solo un paio di immagini all'inizio e alla fine noi otteniamo alcune cose uno otteniamo che il filmato avrà una coerenza grafica perché le icone vedete sono coerenti fra di loro guardate sfogliate e vedete che c'è una proprio una coerenza d'immagine ma il secondo obiettivo che noi otteniamo in questo modo è che non distraiamo chi deve vedere ascoltare non lo distraiamo perché quello che conta è spiegare a questa persona che cosa lui deve fare quindi è inutile che io prenda una foto di uno che si mette degli scarponi perché tanto glielo sto dicendo che per andare a sciare devi metterti degli scarponi quindi io utilizzerò l'immagine di una scarpa o di uno scarpone se la trovo eccolo qua per esempio è molto più elegante è molto più comunicativo una sola grafica di questo genere senza testo senza niente ma una spiegazione sotto questi sono scarpe da pattinaggio le devi indossare e devi fare attenzione che i lacci siano ben stretti ne va delle tue caviglie basta e concentrate l'attenzione dello spettatore su un oggetto la vostra voce spiega e poi andate avanti andate avanti andate avanti a spiegare raccontare eccetera diciamo che arrivate fino qui allora abbiamo 1,2,3,4,5,6,7 e poi c'è questo titoli di coda perfetto questo voi non l'avete è il mio logo va bene scrivete i titoli di coda perché avete il testo e i titoli di coda ma diciamo che a un certo punto voi avete vi avanza vi avanzano dei clip qua vedete alla fine siete arrivati alla fine e avete incontrato un modello che vi da più clip di quelli necessari non importa con questi tre puntini voi direte elimina se invece c'è un clip che è riuscito particolarmente bene lo volete duplicare sostituendo magari qualche cosa lo duplicherete se volete aggiungere un clip questo è il pulsante più e lui vi aggiungerà un clip alla fine se li volete spostare basta prenderlo acchiapparlo e li spostate dove volete non c'è niente di più semplice per realizzare un filmato ve lo assicuro è l'applicazione più formidabile performante semplice chiara alla portata di chiunque per fare un bel film e poi qui in alto a destra vedi che hai musica musica e qui puoi aggiungere tutta la musica che vuoi prima l'ascolti e poi se non ti piace aggiungi una tua musica ok qua a destra ho cercato malissimo poi hai tema puoi cambiare il tema naturalmente e puoi anche cambiare un po' il layout per esempio il layout il tema riguarda tutto il film è applicato a tutti i clip qui sotto invece il layout è applicato a ciascun clip cioè puoi avere un layout diverso per ogni clip in questo caso hai lo schermo diviso quindi qui aggiungerai qualcosa qui ne inserirai un'altra e così andrai avanti qui invece avrai la possibilità di inserire anche una didascalia qua sotto ma ripeto andateci cauti con i testi eccetera perché se c'è la vostra voce la voce è sufficiente se c'è il testo allora non c'è bisogno della voce oppure la voce deve dire qualcosa d'altro non siate rindondanti non dite due volte la stessa cosa o addirittura tre volte la stessa cosa mostrandola prima con le immagini poi spiegandola con la voce poi scrivendo un testo perché non lo dovete fare? perché fare così significa dire a chi ti sta guardando che è un cretino e che io devo spiegarte così tanto le cose perché tu sei proprio uno che non le capisce e invece no tutta l'arte del racconto sta nel non raccontare l'arte del racconto sta in realtà in quello che tu non dici ora se non dici niente non è che io posso immaginarmi quello che tu vuoi raccontare ma devi dare degli elementi e devi sapere principio di Kulesov è proprio il principio di Kulesov che qualsiasi cosa tu tralasci tra una e l'altra lo spettatore lo riempie perché il cervello nostro non ammette buchi da un punto di vista logico ma soprattutto i sentimenti le emozioni non ammettono buchi interruzioni non concepiamo il vuoto quindi andate tranquilli quando arrivate alla fine provate con il play questo play farà la riproduzione riprodurrà tutto il filmato mentre il play del clip riprodurrà solo il clip quindi facciamo un un play generale andiamo a vedere ovviamente qui non c'è niente interessante vedete che va tutto bene ed ecco che cosa potete fare potete fare due cose scarica e quindi vi trovate il vostro capolavoro sul vostro computer tablet eccetera oppure condividi e qui non ve lo rispiego neanche perché ritorniamo nello stesso identico caso dell'applicazione per creare pagine web e infatti si tratta della stessa della stessa serie di applicazioni e questo è anche un motivo per cui io preferisco avere a che fare con produttori che realizzano più applicazioni integrate fra di loro che non cambiare ogni volta questo sistema per dover poi ricominciare da zero a imparare non solo meccaniche diverse ma anche concezioni grafiche cioè concept differenti e dunque per questo motivo io invito tutti a lavorare con queste tre applicazioni quindi book creator abbiamo detto per creare il project work poi che è questa poi spark adobe spark video per creare il vostro filmato e adobe spark page per creare la vostra pagina web quindi pagina web e filmato vediamo quello di elena carta perché così diamo un consiglio anche a elena carta sono consigli che poi valgono per tutti molto bello quello di elena carta perché ecco lei ha applicato la nozione window ma solo quella si vede che voi siete voi insegnanti siete proprio così avete una cosa in testa tac no quindi qua è tutto window ah no guarda c'è anche il doppio il doppio schermo la invece era tutto foto così cercate di mescolare un po' passatevi dei neuroni l'uno con l'altro no? si pesta una volta anche va bene ci sono questi scambi neuronali che si possono fare dicevo a elena elena che dice delle cose molto poetiche molto poetiche ecco io ti consiglio di togliere questi testi qua ok più di me io sono con i miei amici e i miei figli si dice che siamo sempre in trullallera no? bene ma questi inserti sviliscono il racconto ok a meno che tu non organizzi in modo tale che succeda qualche cosa per cui si generi per esempio un conflitto che viene risolto con una risata oppure un equivoco oppure una conclusione allegra magari di questo genere che scioglie tutto il racconto però ecco il consiglio che vi do è dovrebbe esserci alla fine comunque si quando poi si racconta qualcosa bisogna tenere in piedi il registro che si adotta ok che naturalmente può essere anche un registro comico ma allora deve essere tutto comico capito? grazie di niente figuratevi sono trucchetti spark page quello si è possibile inserire anche un sottofondo musicale oltre al commento vocale ecco ecco allora questa è una buona domanda molto importante perché mi aiuta a farvi capire qual è la differenza tra un film e una pagina web nelle pagine web non si possono inserire commenti musicali di sottofondo non si possono realizzare neanche in html5 le specifiche del consorzio sull'html5 non prevede che ci siano musiche di sottofondo perché altrimenti le compagnie utilizzerebbero questo per rincitrullire le persone con musiche spot pubblicitari che non si riescono più a disattivare e che vanno in continuazione quindi la pagina web è una pagina che si vede tu hai l'impressione che sia un film perché scorre ma non è un film è una pagina grafica invece il film è un'altra cosa nel film tu aggiungerai una colonna sonora vedrai che in alto c'è scritto inserisci musica puoi inserire la musica che ti viene proposta oppure se tu hai una musica di tuo gradimento potrai inserire la tua colonna sonora quindi usando Adobe Spark Video per fare i set step se è possibile quindi oltre che fare il commento esatto vocale per le didascalie anche inserire la musica di sottofondo esattamente e allora grazie buona notte noi siamo quelli della notte